salve a tutti dal grande 88 siamo in polonia oggi abbiamo comprato un po di gratte e vinci allora 15 svuote kockan pochke quindi kockan significa amare amo la polonia podonia casa casa in polonia zschwoska va bene è un altro da due svuote allora questo da cinque svuote che sarebbero circa un euro questa due svuote sarebbe perché un euro è uguale a quattro svuote e 20 quindi sarebbe 5 centesimi molto poco abbiamo vinto qualcosa no devi trovare due banconote una banconota bastava niente siamo al prossimo diciamo che sono molto carine dai qui gratte e vinci in polonia costano anche il giusto allora niente una corona due corona dobbiamo trovare che significa una corona due cinque svuote bene diciamo che un euro e venti bene andiamo avanti siamo a cinque svuote però dobbiamo trovare due numeri uguali niente 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 questo è un po più rottura di scatole dovranno trovare le lettere che abbiamo e ok e ok e ok e ok e ok grande pazienza f non credo c'è f una i g no se c'è una g 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